In questi ultimi giorni un altro fatto eclatante che sta sconvolgendo il territorio comasco è la proposta da parte della CGL di Como di invitare i cittadini comaschi a fornire cellulari per i clandestini. Un sindacato che un tempo si occupava di lavoratori, di pensionati, di esodati, di cassi integrati, oggi è diventato il sindacato dei clandestini. Migliaia sono i cittadini comaschi che non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, che non hanno le risorse per vivere, che vivono sotto la solle di povertà e il sindacato si occupa di recuperare e di fornire il cellulare ai poveri clandestini perché devono comunicare con loro. Anche per questo motivo il 4 dicembre bisogna votare no, un no alle politiche filoimmigrazionisti di questo governo, un no per mandare a casa questo governo amico dei clandestini.